Incontri sempre importanti quelli che si sostengono qui all'Università degli Studi di Salerno, come è andata oggi? Secondo me, dal mio punto di vista è andata bene, ma non per quello che ho detto, ma per quello che i ragazzi mi hanno dato, perché, ripeto, quello che ho detto loro, ritornare in un'aula universitaria, trovarla così gremita di studenti, è un'emozione grandissima per chi crede nella scuola e io ho sempre creduto nella scuola perché il metodo di lavoro, il metodo di studio mi deriva dagli insegnanti che ho avuto e da quello che mi hanno trasmesso. La scuola è l'istituzione della cultura ed è una formazione che è non solo professionale, nel mio caso, giuridica, ma è anche etica, perché l'insegnante trasmette anche valori di onestà, di correttezza, di serietà, di impegno, di dedizione, di passione. Quindi io sono giudice, ma devo molto ai miei insegnanti, a partire dalle elementari, che sono una scuola fondamentale, e porto nel mio cuore il ricordo di tutti coloro che mi hanno insegnato, non solo a leggere di greco e di latino, a imparare a leggere la norma, quindi penso al professore Flick, che è stato il mio professore di diritto penale, mi ha insegnato a leggere la norma penale, mi ha dato le chiavi di lettura, ma ricordare anche la grande umanità e la grande vicinanza. Rettore, secondo step di Unisorienta, 1.400 studenti, continua l'affluenza, qual è il bilancio? Il bilancio lo faremo alla fine, ovviamente tutto lascia presupporre che sia quest'anno un'edizione senza precedente. C'è un entusiasmo da parte dei giovani, c'è un entusiasmo da parte dei colleghi che si prestano con grande dedizione a questi seminari di approfondimento, agli incontri con gli studenti e con i colleghi delle scuole superiori, ma c'è soprattutto una grande consapevolezza che è una scelta decisiva per la vita dei singoli studenti, per le loro famiglie, del loro territorio e anche della nostra università, perché noi siamo valutati in base agli studenti e gli studenti regolari. Vedete, il momento della scelta del percorso universitario è un momento decisivo, le statistiche dimostrano che ci sono troppi studenti ancora che dopo il primo anno abbandonano o che cambiano facoltà e questo significa perdere un anno, perdere un anno di vita del giovane, perdere un anno di vita delle famiglie, perdere un anno di vita dell'università e del territorio stesso. Allora noi dobbiamo cercare di mettere in campo ogni iniziativa in termini di orientamento, Uniso Oriente in questo senso è paradigmatica, ma anche tutte le altre iniziative che facciamo durante l'anno, perché diventa decisivo per mettere gli studenti in condizioni di poter scegliere nel miglior modo possibile. C'è grande consapevolezza, c'è grande attenzione, i seminari stanno funzionando benissimo, c'è un grande livello di attenzione, dobbiamo dire sempre molte grazie agli istituti scolastici che ci hanno scelto e anche ai docenti delle scuole superiori che con grande impegno, perché certamente è un impegno anche per loro gestire situazioni di assoluta complessità, perché ovviamente cosa diversa è un istituto scolastico, cos'altro un campus di 1 milione e 200 metri quadri, è chiaro che bisogna dare atto che c'è grande voglia di partecipare perché sanno che è importante per la costruzione del futuro dei nostri giovani.